Seconda giornata di ritorno del campionato femminile, la nostra Roma affronta il Milan. Al limite della rigore la Roma prova subito ad attaccare con Giuliano che cerca la conclusione, cerca subito il gol dell'ex. Andressa centrale, poi ancora Giuliano, possibilità di andare al tiro, ci prova dalla distanza Giuliano, altra soluzione di Manuela Giuliano, altra parata di Giuliani. La sventagliata con il destro, bellissima, a servire Emili Ove che punta Arna Dottir, ancora Ove fa tutto da solo, la conclusione della norvegese. La Roma adesso sta cerchiando il Milan, ma la larghe verso Serturini, grande aggancio di Anna Maria, uno contro uno, ancora Anna Maria Serturini, possibilità di andare al cross, lo effettua! Ed il pallone che attraversa quasi lo specchio della porta. Anna Maria Serturini mette il cross sul secondo, la conclusione, la grande respinta! L'attentativo ancora di affondare questa volta con Uve, palla che passa, Greggi al limite, può andare alla conclusione, Greggi! Palla fuori! Occhio alla cross di Mascarello, il pallone sul secondo palo, il colpo di testa con la parata di Ciasar! Pallone recuperato da Greggi per Giuliano, poi Ove, la Roma adesso prova a ribaltare il campo, attenzione alla velocità della norvegese che nel primo tempo ha messo in difficoltà Arna Dottir, anche in questa occasione, palla sul secondo palo, il colpo di testa a Giacinti, è lì! Pallone quasi sulla linea, il salvataggio dopo la sponda di Anna Maria Serturini per Giacinti! Cerca il destro, poi il sinistro, Uve, sta impazzendo l'islandese, il lacrosse in mezzo, ancora una volta il colpo di testa! La Roma va in battaggio! Ancora una volta a Manuela Giuliano, gol dell'ex per la numero 10, strepitosa Emiliove, e arriva Manuela Giuliano! Serturini che è passata a sinistra invece, prova ad andare Anna Maria Serturini, cerca lo spunto, sempre Serturini, il cross, palla in mezzo, Giuliano raccoglie! Manuela Giuliano! La Roma sta stradominando anche a Milano con il Milan, dove tra l'altro non aveva mai vinto. Messias, il pallone dentro, esce, c'è Hazard. Vince ancora la formazione di Alessandro Spugna, che non si ferma più. Grazie a tutti!